E siamo allo sport, calcio, seconda giornata del campionato di Serie C, domenica ore 17.30, Latina Pescara, il primo esame in trasferta per i biancazzurri di Colombo che stiamo per ascoltare. Resta in dubbio il difensore Gianmarco Ingrosso, lieve distorsione alla caviglia per il classe 89, negativo comunque l'esito degli esami strumentali. Oggi conferenza stampa pre-gara anticipata da parte del tecnico biancazzurro che ha parlato subito delle condizioni di Ingrosso e naturalmente dell'avversario di turno, il Latina dell'Abruzzese. Daniele Didonato, un ampio stralcio della conferenza. Gianmarco ha subito un trauma contusivo, distorsivo, ginocchio, caviglia e quindi è in via di miglioramento. Vediamo se riusciamo a recuperarlo per la partita di domenica oppure è destinato ad aspettare i prossimi incontri. Chiaro che avendo ancora qualche giorno a disposizione proveremo a fare di tutto perché sia della partita, altrimenti ci saranno altri che potranno sostituirlo in modo egregio. È una squadra che l'anno scorso ha fatto il più alto minutaggio del girone C ed è arrivata a ridosso dei play-off facendo una parte centrale molto importante a livello di risultati e di prestazioni. Ha mancato per poco i play-off e quest'anno ha mantenuto la stessa ossatura praticamente con uno o due inserimenti. È una squadra di buona gamba, di buona fisicità, quindi oltre agli aspetti tecnici ti può mettere in difficoltà sulle corse, sulle ripartenze e sulle palle inattive. Ecco perché poi non sono sorpreso anche se ho visto la partita e comunque il Foggia ha fatto la partita, le ha avute le opportunità, ma forse prende ancora più valore il risultato da parte del Latina perché contro al cospetto di una squadra come il Foggia fare il risultato a Foggia, senza dubbio sinonimo di squadra quadrata, è molto avanti, molto avanti rispetto a tante, a tutte, perché ha un rodaggio che deriva da un lavoro di un anno. Quello che ho chiesto alla squadra è quella di essere umile in prima battuta, sicura dei propri mezzi, ma con l'umiltà della squadra che si deve salvare. Non credo che a prescindere ci sia una partita offensiva da una parte e prettamente difensiva dall'altra, basandosi solo sulle transizioni. Io credo che dipenderà da chi riesce ad avere il dominio del centrocampo e da lì poi le dinamiche cambieranno. Non sto pensando al turno infrasettimanale. Io credo che in questo momento non sia nelle facoltà di un allenatore poter pensare a una partita che avverrà fra tre giorni. Dobbiamo pensare una partita alla volta e evitare di pensare a quello che verrà dopo perché è quello più importante, quello che accade oggi o domani, non fra quattro giorni. In questo momento noi abbiamo bisogno, perché siamo solo all'inizio, siamo solo alla prima, ancora di conoscere chi siamo. E in base anche a questa considerazione io credo che ho ribadito più volte che per noi è la prima trasferta alla squadra. Quindi dobbiamo cercare di avere una forza mentale simile a quella che l'Adriatico ci può dare. E non è sempre scontato. Quindi anche lì sarà un bel banco di prova per vedere chi siamo. Così dunque Colombo, tornando a Ingrosso, in caso di Forfè, Boben sembra in vantaggio sull'ex Riccardo Brosco che ha giocato in B dal 2013 al 2017 proprio nel Latina. Per quanto riguarda invece le altre probabili scelte, domani ci sarà la seduta di rifinitura e poi la partenza per Latina. a Germinario potrebbe lasciare il posto a Giabuà a centrocampo, mentre in attacco, attenzione, Colai potrebbe essere preferito a delle Monache. Latina invece è privo dell'ex Riccardi, ancora non al meglio della condizione, del difensore De Santis. Al debutto i nerazzurri di Daniele Di Donato a Bruzzese, ricordiamo di Roseto, hanno espugnato Foggia così come è accaduto lo scorso anno. Partita di sacrificio, difesa a volte anche bassa e contropiede, Latina cinico e spietato, a segno gli attaccanti Rossetti, Carletti e Luca. Fabrizia, Aquilano, la prima gioia tra i professionisti, 3-5-2 il sistema di gioco, probabile 11, i cardinali tra i pali. Poi nel cuore della difesa Carissoni, l'esperto Andrea Esposito e il 2002 Giorgini. Sulle fasce il pescarese Marco Teraschi, classe 2001, che è cresciuto nel delfino Flacco Porto, e Antonio Esposito, che invece è arrivato in prestito dal Renate. Poi l'ex Aquila, l'ex Chieti, anche Pineto, Stefano Amadio in cabina di regia, le mezziali di Livio, figlio d'arte e Tessiore. E poi davanti, forse Margiotta, ex Chievo, scuola Juve, che potrebbe soffiare il posto a Rossetti, al suo fianco giocherebbe in questo caso Carletti. Per quanto riguarda i precedenti, storico successo della pescara di Tom Rosati, che nell'ultima giornata del campionato di Serie C, 1973-74, conquista la promozione in B, decisivo il gol su calcio di punizione di Franco Rosati, le ultime due vittorie invece portano la firma di Caprari e Brugman nel 2014, precisamente il 25 marzo 2014, allenatore Serse Cosmi e di Memushai a fine 2015, 27 dicembre 2015, l'allenatore era Massimo Oddo.